Medio Etruria, due le opzioni decise dal tavolo tecnico per la nuova stazione dell'alta velocità in Toscana, sarà realizzata a Rigutino o a Creti. Alloggi per persone con disabilità, i consiglieri comunali Cornacchini e Rossi esprimono soddisfazione per gli impegni assunti dall'assessore Nisini. Il maestro Alfred Brandel, uno dei maggiori pianisti al mondo, sarà ospite ad Arezzo il 9 novembre grazie all'impegno dell'Associazione Amici della Musica. Gli Over 65 a scuola di internet, al via il corso di Estra per colmare il divario tra vecchie e nuove generazioni. Calcio, tour de forza Arezzo tra Coppa Italia, campionato e recuperi, Capuano applica il turnover e manda in campo i giovani. Si rinnova l'appuntamento con l'informazione su TSD in apertura di questa nostra edizione come avete già sentito nel sommario parliamo di mobilità e trasporti ed in particolare della stazione Medio Etruria perché sono due le principali opzioni decise dal tavolo tecnico per la nuova stazione dell'alta velocità in Toscana. Sarà realizzata a Rigutino o a Creti-Farneta. Il tavolo tecnico portato avanti da Regione Toscana e Regione Umbria ha individuato due luoghi che più di altri si renderebbero adatti ad ospitare la a lungo discussa stazione dell'alta velocità Medio Etruria. Le proposte sono ricadute in particolare su Rigutino nel comune di Arezzo e Creti-Farneta nel comune di Cortona. Il costo stimato per la realizzazione della nuova stazione dedicata interamente all'alta velocità si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. L'altra ipotesi messa in campo dal tavolo tecnico è quella del potenziamento delle attuali stazioni di Arezzo e Chiusi con un investimento compreso tra i 2,5 e i 4 milioni di euro. Sulla realizzazione ex novo della stazione insieme a Rigutino e Creti c'era anche l'opzione Chiusi-Scalo con le prime due però che nel complesso, si legge, sarebbero più rispondenti rispetto agli obiettivi fissati dalle due regioni e cioè di intercettare una quota significativa dei circa 180 treni che transitano sulla linea in modo da anticipare l'interscambio con la rete alta velocità rispetto a Firenze. A Rigutino la nuova stazione sorgerebbe 100 metri distante dalla linea Firenze-Roma e la direttissima permettendo un veloce collegamento anche con i regionali, mentre a Creti-Farneta in Val di Chiana la linea è in un tratto piano in rettilineo senza gallerie o curve. Ci occupiamo adesso di sanità. 50.000 toscani vogliono il referendum per cancellare la controriforma della sanità regionale per rivendicare un servizio sanitario equo ed accessibile. Domani mattina il comitato promotore per il referendum abrogativo consegnerà nelle mani del Presidente del Collegio di Garanzia le firme necessarie per l'indizione del referendum. Le 50.000 firme raccolte sono contro la legge 28 del 2015 ma anche contro i continui tagli al finanziamento della sanità pubblica, la progressiva riduzione del personale addetto all'assistenza, l'impoverimento progressivo dei servizi e le liste di attesa infinite. Cambiamo argomento adesso e parliamo di alloggi per persone con disabilità. I consiglieri comunali Cornacchini e Rossi esprimono soddisfazione per gli impegni assunti dall'assessore Nisimi. Hanno espresso la loro soddisfazione per gli impegni presi dall'assessore alle politiche della casa del comune di Arezzo Tiziana Nisini intorno alla questione relativa alla gestione degli alloggi di emergenza per i disabili e alle problematiche legate ad Arezzo Casa, la società che gestisce gli immobili residenziali pubblici dei singoli comuni della provincia di Arezzo. I consiglieri comunali Angelo Rossi e Mary Stella Cornacchini infatti avevano rivolto un'interrogazione a seguito di alcuni articoli apparsi sulla stampa dove emergeva come il comune di Arezzo non disponga attualmente di alloggi di emergenza in grado di ospitare i disabili in difficoltà. Il fatto che risulta particolarmente inaccettabile per Cornacchini e Rossi è che il comune tramite Arezzo Casa negli anni abbia assegnato ben oltre mille abitazioni, un numero notevole se rapportato ad Arezzo che a stento raggiunge i 100.000 abitanti. L'assessore Nisimi ha tenuto a specificare come ad oggi il comune di Arezzo abbia costituito una quota di 23 alloggi destinati all'emergenza sociale. Si tratta di piccole abitazioni da 28 a 50 metri quadri utilizzate a rotazione per fronteggiare casi di particolare disagio segnalati dal servizio di assistenza sociale. Nisimi ha dunque ritenuto di fondamentale importanza che vadano monitorati i tempi di permanenza delle persone o nuclei familiari che le occupano al fine di mantenere il previsto criterio di transitorietà. Il timore infatti è che questi siano diventati e possano diventare alloggi definitivi. Inoltre verrà avviata una ricognizione straordinaria e immediata tra coloro a cui è stata assegnata una delle mille abitazioni attualmente tutte occupate, assegnate come detto negli anni passati dal comune tramite Arezzo Casa per appurare se gli stessi abbiano ancora diritto a viverci. Infine, tenuto conto che a breve confluiranno nel patrimonio dell'amministrazione comunale due alloggi privi di barriere architettoniche in piazza San Gemignano, uno di questi, se non entrambi, sarà inserito tra gli alloggi di emergenza sociale. Veniamo adesso alla politica. Con la presentazione della nuova segreteria all'Assemblea Comunale del Partito Democratico, il segretario Alessandro Caneschi ha concluso il percorso che lo ha visto assumere la guida del partito la scorsa estate. La nuova segreteria è una sintesi delle migliori esperienze istituzionali e politiche del territorio con competenze in ogni settore, spiega Caneschi. Ci impegneremo per un'opposizione pragmatica, concreta, determinata. La giunta di destra dovremmo essere capaci di fare rete nella città e di connettere il PD al tessuto più vivo della società aretina. Caneschi traccia anche le linee guida del lavoro che intende impostare con la neonata segreteria. È indispensabile rafforzare la nostra capacità di presenza pubblica in città per costruire un'alternativa nell'amministrazione comunale senza trascurare il lavoro di promozione, di sostegno e di approfondimento delle politiche messe in campo dal PD a livello regionale e a livello nazionale per cambiare l'Italia. Il maestro Alfred Brendel, uno dei maggiori pianisti al mondo, sarà ospite ad Arezzo il 9 novembre grazie all'impegno dell'Associazione Amici della Musica. È uno dei maggiori pianisti al mondo e sarà ospite ad Arezzo nell'ambito della straordinaria stagione concertistica organizzata dagli Amici della Musica. Il maestro Alfred Brendel terrà una lezione magistralis sulla figura di Litz lunedì 9 novembre alle 21 all'auditorium di Arezzo Fiere Congressi e sarà accompagnato da altri due grandi pianisti, Denis Varjon e Juan Carlos Garvajo, nonché da un compositore d'eccezione come Maurizio Sotelo che introdurrà una sonata dedicata a Brendel eseguita da Garvajo. È davvero un piacere poter presentare e quindi anche regalare al pubblico aretino un evento che devo dire di caratura europea, ma non per farci grandi, semplicemente perché abbiamo voluto presentare in questa carrellata della stagione chi ha rappresentato veramente la musica nel mondo e ovviamente il pianoforte che è il nostro leitmotiv di tutta la stagione. Sarà dato ovviamente al maestro Brendel, il secondo nostro premio Arturo Brendeletti Michelangeli, sempre fatto dall'argenteria Raspini e questa sarà un'occasione principalmente per coinvolgere le scuole perché sarà veramente un'esperienza altamente formativa, non solo di nicchia ma deve incuriosire tutto il pubblico che forse la musica è un linguaggio proprio per tutti. Un'iniziativa che coinvolgerà anche giovani studenti delle scuole aretine. In effetti abbiamo pensato che questa opportunità fosse importante non soltanto per i ragazzi del musicale che chiaramente hanno nella musica un loro punto formativo di base ma per tutti i ragazzi perché la musica è un modo per comunicare, per trasmettere emozioni e quindi è giusto che possano partecipare anche altri a questi eventi che sono unici per la città. Maggiori informazioni e prenotazioni dell'evento sono reperibili alla sede degli Amici della musica di Arezzo in corso Italia 102 o chiamando il numero 0575 40 14 46 e attraverso i circuiti box office e Ticket One. Controlli sempre più mirati a bordo degli autobus TM per contrastare il fenomeno dell'evasione tariffaria. La normativa della regione toscana recentemente aggiornata oltre a modificare il sistema sanzionatorio pecuniario per coloro che viaggiano senza biglietto sul bus ha infatti introdotto anche la possibilità di inibirne l'uso per determinate categorie di viaggiatori. In sostanza non è più possibile accedere a bordo senza il regolare biglietto a meno che non lo si acquisti immediatamente a bordo rivolgendosi all'autista e con tariffa maggiorata. Se il pagamento non viene effettuato l'utente non potrà accedere sul bus oppure in caso di controllo a bordo sarà invitato a scendere alla fermata successiva secondo le modalità previste dalla norma. Gli over 65 a scuola di internet al via il corso di estra per colmare il divario tra vecchie e nuove generazioni. Usare Skype, Facebook, Whatsapp insieme ai propri figli o nipoti per rendere più unita la generazione dei nativi digitali con quella che di tecnologia ed informatica conosce appena i rudimenti. Per riuscire a colmare questo divario e creare la possibilità per chi non parla il linguaggio informatico di sentirsi ancora parte integrante della società in continua evoluzione, estra in collaborazione con Tiforma e Anteas organizza a partire da martedì 10 novembre il corso Anche io uso internet rivolto a tutti i clienti di estra energie di età superiore ai 65 anni. Abbiamo ritenuto di offrire questo corso gratuito agli over 65 di informazione di crescita e di utilizzo del computer e dei nuovi mezzi di comunicazione proprio per rendere più facile la socializzazione, l'accesso anche agli strumenti che servono per stare nella società. Il corso si svolgerà nei locali del campus del Pionta di Arezzo due volte a settimana dalle 15 alle 18. Il programma didattico prevede sei diversi moduli strutturati gradualmente per l'apprendimento delle varie competenze informatiche, dalla navigazione in internet alla posta elettronica, ai social network all'accesso a servizi online. Partecipando alla vita sociale e alla vita del territorio vuol dire anche abbattere quelle barriere che sono culturali e che portano gli anziani a diffidare di questi nuovi strumenti. Per partecipare ai sei incontri pomeridiani basterà compilare la scheda di iscrizione e il questionario di verifica delle conoscenze informatiche presso la sede di Anteas in Viale Michelangelo 116 ad Arezzo. Dopo la querelle degli ultimi giorni arriva l'ufficialità per l'allestimento del mercatino di Natale tirolese proposto da Confcommercio e reso possibile dall'accordo tra il comune di Arezzo e gli operatori della fiera antiquaria. Dalle stelle alpine alle pantofole in lana cotta, dai gioielli allo spec sono questi i prodotti provenienti da Salisburgo, Bolzano e Merano che si potranno trovare tra i 25 stand natalizi in Piazza Grande da venerdì 4 a domenica 27 dicembre con orario continuato dalle 10 alle 21. Oltre ad implementare l'indotto turistico di Arezzo, le bancarelle provvederanno anche a fornire un'offerta lavorativa per andare ad affiancare l'attività degli operatori tirolesi che arriveranno in città. Sono aperte infatti le candidature per 25 addetti alla vendita e alla somministrazione ed è possibile inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo mail villagiotirolese-gmail.com E veniamo adesso alla pagina sportiva, ci occupiamo di calcio, un tour de force per l'Arezzo tra Coppa Italia, campionato e recuperi con Capuano costretto ad applicare il turnover e a mandare in campo i giovani. La parola chiave per affrontare il tour de force che vede il loro malgrado Yamaranto scendere in campo quattro volte in due settimane è turnover. Capuano non ha alternativa e già a partire dalla gara di Coppa Italia contro la Roburziena darà spazio a chi fino ad ora ne ha avuto poco. Mi aspetto e sono convinto che soprattutto le motivazioni saranno altissime di chi ha giocato poco e quindi avrà voglia di mettersi in luce. Ecco che allora il nocchiero Amaranto manderà dentro Brumat, Calabrese, Ceria, Pugliese e Rosti tra i pali mentre non sarà a disposizione Vinci, non ancora recuperato. Dal punto di vista tattico Capuano non ha ancora deciso se giocherà con il 4-3-1-2 modulo scelto fino ad ora dal tecnico di Pesco Pagano o se opterà per altre soluzioni magari rispolverando il 3-5-1-1. Domani sera dovessi optare per riconfermare godesto modulo, molti giocheranno fuori ruolo e soprattutto avremo in campo una squadra ultra-offensiva. Quindi sto pensando eventualmente anche di modificare struttura per avere una squadra più compatta. Infine Capuano punterà anche sui ragazzi della Berretti. I giocatori della formazione allenata da Antonio Alessandria stanno attraversando un buon periodo e sono a punteggio pieno nel proprio girone. Probabilmente domani ci sarà qualche giocatore che può giocare anche il titolare. Con il Siena di Azzori fischio d'inizio mercoledì 4 novembre alle 20.45 al città di Arezzo con il calendario che porterà Iamaranto nell'arco di otto giorni ad affrontare Teramo, Savona e Lucchese. Sarà inaugurata domani alle 17 presso la Casa delle Culture di Arezzo un nuovo spazio aperto a tutta la cittadinanza. La sala di lettura e di documentazione interculturale gestita da Oxfam Italia è intitolata al Premio Nobel per la Pace Malala Yousafai. La sala contiene 15.000 volumi dedicati all'approfondimento di temi che trattano delle trasformazioni della città e della nostra società come ad esempio il confronto tra culture diverse, l'integrazione dei migranti, il ruolo e la difesa dei diritti delle donne. Al taglio del nastro saranno presenti la direttrice della campagna di Oxfam Italia Elisa Bacciotti ed il consigliere del presidente della regione toscana per le attività internazionali Massimo Toschi. Edoardo, Leo e Luca Telese sono solo alcuni dei grandi nomi ospiti del Teatro Verdi di Monte San Savino al via la stagione teatrale 2015-2016 dal titolo Quotidianamente. Il Teatro Verdi di Monte San Savino rinnova la propria proposta teatrale presentando il programma della nuova stagione 2015-2016. Quotidianamente è il titolo di questa stagione che vuole raccontare la vita di tutti i giorni attraverso storie capaci anche di toccare temi profondi. Storie di ieri, di oggi, di sempre portate sul palco dai grandi nomi come quello di Edoardo Leo e Luca Telese. Per il suo particolare legame con questa terra Officine della Cultura ha deciso di affidare la direzione artistica all'attrice Amanda Sandrelli affiancata a Luca Baldini. La direzione artistica è una linea, insomma, una linea di un punto di vista e quindi credo che in tanti anni un punto di vista più o meno me lo sono fatto. Con questo posto ho un legame ormai abbastanza importante sono tanti anni che vengo, ho allestito due cose e credo che sia un posto che ha un'energia bella per cui, insomma, cominciare è la prima volta che lo faccio ma lo faccio con entusiasmo. Primi due appuntamenti della stagione venerdì 13 novembre alle 21 e 15 con lo schiaccianoci di Tchaikovsky e lunedì 30 novembre alle 21 e 15 ti racconto una storia letture semiserie e tragi comiche. Credo che più si va avanti più le persone abbiano bisogno di sentirsi raccontare delle storie delle storie possibilmente non stupide che siano divertenti, che siano godibili ma che abbiano anche una profondità. Non solo spettacoli teatrali a Monte San Savino spazio anche agli appuntamenti con la danza, la musica e un'attenzione tutta particolare riservata ai più piccoli. Molto interessante per quanto riguarda la nostra stagione teatrale è avere anche attivato il babysitting quindi dare l'opportunità ai genitori di poter vivere questa stagione teatrale quindi i loro bambini possono essere portati con loro e nel frattempo essere accuditi precisamente nella sala del Cassero. Tornano gli incontri del ciclo Le parole e il silenzio promossi dalla Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi e il cammino riprende dalla Pieve di San Pietro a Romena Vivere è l'infinita pazienza di ricominciare la suggestiva espressione di padre Hermes Ronchi da cui prenderà origine l'incontro in programma domenica 8 novembre alle 15 ad ingresso libero L'infinita pazienza di ricominciare ogni giorno ritrovare se stessi ogni giorno abbracciare l'infinito è il titolo dell'iniziativa che si inserisce nel ciclo 2015 intitolato Ritorno a casa per esprimere il bisogno per ciascuna persona di uscire dalle frenesie del quotidiano e ritrovare una dimensione familiare dove esprimere se stessi Questa per il momento era la nostra ultima notizia non ci sono ulteriori aggiornamenti vi ricordo che subito dopo di noi l'appuntamento è con il meteo grazie per la cortesia e attenzione e buon proseguimento con i programmi di TSD Grazie a tutti